Avete mai visitato il circo? Avete provato quella sensazione di lasciarvi alle spalle la realtà per addentrarvi almeno per una notte in un mondo quasi esoterico fatto di illusioni e meraviglie? E se ciò che avete visto non fossero affatto illusioni? Cos'è la realtà e cos'è il sogno? Amici e amiche di Play With Prince, tenetevi forte perché stiamo per avventurarci in Reveal, un gioco di The Delic Entertainment e degli sviluppatori Pixel Split che ringrazio per avermi dato modo di condurvi alla scoperta di questo nuovo titolo. E dunque seguitemi se osate e vi accompagnerò attraverso la follia indagando i labirinti della mente disturbata di Walter Thompson tra gli incubi di un circo che... oh ma siete ancora qui? E allora se proprio volete saperlo lo scoprirete dopo la sigla. Ebbene eccoci qui mi rivolgo ai valorosi che hanno avuto il coraggio di seguirmi in questo primo atto del primo capitolo di Reveal. Ragazzi questo è un gioco che si divide in 5 capitoli per cui magari potrei anche decidere qualora vi facesse piacere di portarvi gli altri 4. Per ora vediamoci questo primo capitolo. Noi ci troviamo in un ambiente per nulla rassicurante che richiama vari elementi appunto del circo con elementi fluttuanti piuttosto surreali dei toni rossastri. Un'illuminazione che... cioè forse c'è anche il ray tracing in questo gioco non ne sono sicuro. Io sto giocando da pc ma vi ricordo che c'è anche per playstation 5 per cui potrebbe essere effettivamente un'opzione. E sto giocando con mouse e tastiera nonostante sia piuttosto abituato a giocare più spesso con controller. E cominciamo già ragazzi a intuire quello che è il mood dell'opera. È un titolo che non propone combattimenti, non vuole essere un Resident Evil per così dire ma vuole farci immergere in un'opera appunto psicologica, horror, narrativa, di immersione di rompicapi. Infatti al momento dell'avvio il titolo consiglia caldamente di giocarlo utilizzando delle cuffie ed è quello che vi consiglio anche io ovviamente. Ci risvegliamo nei panni del signor Walter Thompson nel suo appartamento con emicrania e ovviamente lui pensa alle sue compresse. Eccole qui. Il modellino ragazzi è fatto piuttosto bene. Si vedono anche i graffi, vedete? Questi saranno farmaci di qualche tipo, non so se psicofarmaci o che altro. Possiamo anche zoomarlo, vedete? È fatto. È realizzato con una certa cura, devo dire. Forse Marta e Dory sono ancora sveglie. Marta deve essere la moglie, suppongo, e Dory la figlioletta. Muoviamoci in giro. Vorrei solo che avessimo il tempo e il denaro per viaggiare, quindi non è una famiglia benestante o perlomeno non ricca. Con tab possiamo vedere le traduzioni in italiano dei testi. Io andrò un po' spedito ragazzi, perché altrimenti già credo che durerà un po' questo gameplay e sarà con tutta probabilità necessario portarvene altri, ma questo lo deciderete voi qualora vi piaccia questo gioco, me lo scrivete nei commenti se è vostro desiderio avere altri video al riguardo. Tanto vediamo che con gli oggetti si interagisce in puro stile pasmofobia, ovvero trascinando il mouse dopo averli afferrati. Credo che facesse parte di un vecchio carillon. Questa è una statuetta di ballerina. Credo che questo sia il carillon. Lo scoperchiamo. E andiamo a inserire la statuetta qui. Qui c'è la molla. L'ho appena paragonato poco fa a Resident Evil e ho detto che non gli somiglia, almeno per quanto riguarda il combattimento, ma questo tipo di puzzle, ragazzi, come fa a non richiamare l'opera di Capcom? Chiave della camera da letto. E io vorrei sapere, caro signor Walter, perché hai la chiave della camera da letto e la tua camera da letto nascosta nel carillon e non sai nemmeno perché stava qui? Abbiamo una partecipazione a un matrimonio declinata e l'uscita dalla nostra stanza. Ok. Quindi suppongo che in qualche modo tutta la famiglia sia coinvolta all'interno dell'ambito lavorativo del circo. Vedete che comincia a tremare un po' tutto, tipo... Mi viene in mente la pellic... La pellicula, ragazzi, il mio spagnolo che ogni tanto vuole averla meglio. Il film di Oppenheimer. L'avete visto? Il protagonista ha questi flash quando pensa, diciamo, a cose brutte. Comincia a tremare tutto. Intanto, giorni senza chiamate, vediamo che ce ne sono un bel po'. Non so perché si stia segnando i giorni senza chiamate, ma... Lo scopriremo a breve. Seguitemi. Questa musica di suspense... Abbastanza ansiogena. Qualcuno ha lasciato acceso il digi radischi. Marta non si stanca mai di questa canzone. Ma rimettiamola, se non è un problema, perché è anche abbastanza carina. Scuola elementare di Lakeside. Nel 981, cari signore e signora Thompson, sono la maestra di Dory, bla bla bla. Dory non segue con attenzione le lezioni e spesso si dimentica di fare i compiti a casa. I risultati degli ultimi compiti in classe sono stati molto deludenti. Vorrei invitarvi a incontrarmi questo giovedì. Un richiamo praticamente dalla maestra alla figlioletta, che a quanto pare non è molto attiva a scuola. L'interruttore, che ovviamente non funziona. Scendiamo per di qua. E stiamo cercando la nostra figlia Dory. Vedete che ci sono ancora questi tremolii. Dory! E questa è la stanza di nostra figlia. Come vedete, moltissimi elementi che richiamano il circo. È una mappa. Una mappa disegnata dalla bambina, che parte da una foresta con un elefante, passa per un cofanetto, un carillon, degli animali, una qualcosa che non so che cosa sia, un clown. È un quaderno. L'elefantino è qui. Qui abbiamo il carillon. Un cofanetto e basta. Ok. Raccogliamo la moneta. Ragazzi, io sto cercando di portarvi questo gioco in un modo piuttosto rilassato, perché è mia intenzione farvi immergere e rilassarvi allo stesso tempo con questo gameplay. Questo era l'altro elemento della mappa, che non abbiamo identificato prima. Sembra un gioco. Serverà probabilmente una pallina. Questo è un clown. Eh? Devo prima aprirgli la bocca. Qui c'è un altro meccanismo a molla. Ok, la bocca gliel'abbiamo aperta, ma... Si, mancano i denti. D'accordo. Ok, qui c'è il quaderno. E la testa della giraffa è la chiave. D'accordo. Bene. Ok, questo è un gioco, un giochino. Vediamo un po' come si... Ok. Ah, dobbiamo mettere la moneta qui sopra. Bene. Ah, cadono le palline... Eh, è una specie di gara di biglie. D'accordo, ragazzi. Scommettete. Quale vincerà? La rossa, la gialla, la nera. Arancione, la blu, la verde. Vediamo, vediamo, vediamo. Io dico la verde. Sì, ho vinto. Credo. Ok, le possiamo raccogliere. Ho preso l'azzurra, così a caso. E ne possiamo prendere solo una, va bene. Allora. E la biglia, probabilmente, la possiamo mettere all'interno di questo giochino. Qui. Ricordo di averne avuto uno simile quando ero ragazzino, per cui l'obiettivo mi sa, appunto. Guardate, una meccanica piuttosto carina. Far roteare il sistema da questa parte, cercando però di non far cadere la biglia all'interno come ho fatto io adesso. Adesso, aspettate che ci prendo un attimo la mano. Con un attimo di concentrazione. Dovremmo, dovremmo farcela. Attenzione. Fermo qui. Vai su. Ok, dovremmo avercela fatta. Ottimo. Che ci ha dato? Denti di plastica. I denti di plastica, suppongo, sono per la bocca del clown. D'accordo? E adesso? E andiamo a premere. Ok. Si è chiusa. Ah, ok. La chiave è di giraffa. Perfetto. Per il quaderno. Vero? Andiamo a roteare. E si apre. Ok, andiamo a vedere l'album da disegno di Dory, di anni 7. Vabbè, ha fatto dei disegni con la famiglia. Il circo, quindi comunque, o ci sta segnalando che è andato al circo, oppure, ragazzi, vediamo che cosa ci vuole comunicare. Animali. La macchina del papà. Ancora animali. Qui diventano un pochino più inquietanti. Un po' più disturbati. Abbastanza di più. Decisamente. E qui diventano preoccupanti. Perlomeno qui c'è addirittura del sangue. Oh, si è chiuso da solo, ragazzi. Si è chiuso da solo. E si è aperto uno squarcio verso un bosco. Suppongo dovremo seguire. Ma che succede? Deve essere un altro sogno. Ok. O con Shift possiamo correre. Non può essere, no. Qui è vicino al lago, proprio accanto al circo. Dory, sei tu? Carino il laghetto. Oh. Ho trovato una mosca grandissima. Ma sono libelle. E infatti, quella lì è una libellula. E' chiamata una libellula. Oh, becchiatevi. Poi potrebbero fuoco. Sputano fuoco, ragazzi, perché in inglese libellula è Dragonfly. Quindi Dragon... Il padre ha detto attenta, perché sputano fuoco. Eccola lì. Si nasconde dietro l'albero la monella. Sicuramente non c'è più... ...licee di giochi di questo tipo. Ci fanno seguire i bambini e poi... ...non li vediamo, non li troviamo. Ok, cominciamo intanto ad avvicinarci a... ...una roulotte... ...del circo, suppongo. Oh, è il chiosco di Agatha. È una buona amica di Marta. Quindi è una buona amica della moglie del protagonista. Come vi ho detto, ragazzi e ragazze, date modo al gioco e a me di condurvi verso il fulcro dell'esperienza di gioco, che è appunto il circo. E come vedete, siamo per addentrarci all'interno. Nelson Bross. Il circo dei fratelli Nelson. Eccola lì, la mascalzona. Non riuscirai mai a prendermi... Entrata lì dentro, nella fan house, la casa dei divertimenti. Mi serve un gettone per entrare nella casa dei divertimenti. Dove posso trovarne uno? Beh. Beh, beh, signora Walter. Attivare fusibile nella tenda dietro le quinte prima dell'arrivo degli ospiti. Istruzioni off-road racing. Metti la moneta nella fessura per iniziare la partita. Quando la moto colpisce un ostacolo, hai perso. Ottieni mille punti per vincere un gettone. E quindi ragazzo, credo che attraverso questo gioco possiamo ottenere il gettone per entrare nella fan house. Però dobbiamo prima attivare la corrente. Qui. Delle monete. Ok, quindi proviamo ad attivare la corrente. Tanto qui ci sono dei cavalli a dondolo, molto carini. Sicuramente non funzionano sempre per via della corrente. Raga, qua c'è ancora l'anduia, mannaggia a Pacific Drive. Qui. Banco da lavoro. Ah, l'indovino. E non c'è corrente, ovviamente. E qui c'è un generatore. Allora, come funziona? Questo è il primo. Dobbiamo andare a tentativi o... Aspettate. Ecco qua. C'è uno schema. Allora, questo è il primo che abbiamo già attivato. Poi ci sono due strade, però questa qui è cancellata, per cui dobbiamo andare a questa qui, che è la quarta. Quarto interruttore. Ok, vedete che non si è staccato. Poi dal quarto anche questo è interrotto e ci porta al settimo. Perfetto. Dal settimo al secondo. Dal secondo al quarto. No, non al quarto, ma al quinto. E poi è rimasto solo il terzo, vero? Perfetto. D'accordo. Io sono Zoan. Posso leggere il tuo futuro. Vieni a scoprirlo anche tu. Mi serve solo un gettone come dono. Quindi, mettiamo una monetina. Zoan ti è grato per il tuo dono. Il grande Zoan vede che hai perso qualcosa. A me, ragazzi, il grande Zoan mi ricorda il film di Adam Sandler, quindi non lo posso prendere sul serio perché era un film divertentissimo. Non so se l'avete visto. Nel caso me lo scrivete qui sotto nei commenti. Un lungo viaggio in auto sulla collina ti sarà sicuramente di aiuto. Quando arriverai, tutte le porte ti si apriranno. Grazie, grazie, grande Zoan. Oh, ci ha dato una carta della fortuna. Con quello che ci ha detto prima. E dei numeri, ragazzi. Se ve li volete giocare e vincete qualcosa, tenetemi presente. Allora, l'interruttore dell'energia e il contatore l'abbiamo... il generatore, per meglio dire, l'abbiamo attivato. Qui si prepara Marta per lo spettacolo, quindi anche lei è una... è lavoratrice, per così dire, del circo. Oh, la giostra, vedete? Si è messa in moto. Possiamo salire su un cavalluccio? Sì, ragazzi, possiamo farci il giro sulla giostra dei cavalli. Che felicità. Bene. Or dunque. A questo punto proviamo ad attivare questo gioco. Mettiamo la moneta qui. E come funziona? Allora, dobbiamo evitare gli ostacoli e arrivare a mille punti. Ok, abbiamo la nostra moto al centro. Dobbiamo spostarla a seconda degli ostacoli, quindi... evitare quelli dove appaiono. Non sembra granché difficile. Scusate se non parlerò molto, ma comunque un minimo di concentrazione è richiesta. Ci siamo quasi, ragazzi. 950 punti. E... mille. Ok, non dovrebbe finire. Forse dobbiamo perdere. Volontariamente. Ok, va bene. E abbiamo raccolto il gettone che con tutta probabilità ci servirà per entrare nella fan house, nella casa dei divertimenti. Sì, perché è triangolare. Quindi andiamo a metterlo qui. Inseriamo lo sportellino. Ora il tornello dovrebbe muoversi. Magari con un po' di olio nei meccanismi andrebbe meglio, però. Entriamo. Entriamo attraverso questa gola. Sembra proprio una gola del clown. E avventuriamoci, ragazzi, nella casa dei divertimenti, alla ricerca di nostra figlia Dory. Ci sono queste pedane rotanti sul pavimento. Tacci tua. C'è la mobilia sul soffitto. Una casa degli spettri, praticamente. Non è un buon segno, però. Quanti anni, ragazzi, che non vado in una casa degli spettri. Mi divertivo tantissimo da ragazzino. Voi avete mai avuto esperienze simili? Mi piacerebbe tornarci, però mi sa che sono un po' troppo grandicello per questa c***a. Abbiamo intravisto nostra figlia che scappava da quella parte. Come vi dicevo prima, l'illuminazione è abbastanza convincente, ma anche il comparto artistico e quello sonoro, io, con le cuffie, devo dire, ho un bel feeling. Entriamo in questo tunnel psichedelico, a dir poco. Entra, vediamo di nuovo la ragazzina. Saliamo le scale. E' incoraggiante, devo dire. Dory, sono serioso, è enough. Se questa fosse stata figlia mia, eh... Una bella sculacciata, non gliela toglieva nessuno. Ricordo. Oh, era un'illusione ottica. Guarda, dove ero? Dove siamo finiti? Queste meccaniche che giocano un po' con la prospettiva mi ricordano titoli come Superliminal o anche Viewfinder, di cui ho portato una recensione all'uscita. Dove stiamo... Dove dobbiamo andare? Oh, si è riaperto un passaggio dietro di noi. Seguiamo il percorso. La porta è finta, giustamente. Dobbiamo andare di qua. Eccola qui. La disgraziata. Il trenino di Dory. E suppongo dobbiamo seguirlo. Vieni qui, trenino. Vieni da zio Prince. Ti è fermato. Ok, dobbiamo rialimentarlo. E seguirlo, suppongo, fino alla fine del percorso. Ok. Di nuovo. Ok. Siamo arrivati. Ok. Ok. Buono anche il doppiaggio inglese del protagonista. Siamo in un ascensore, ragazzi. È andata anche via la luce. Queste fiamme non mi sembrano promettere nulla di buono. Ah, e questi? Scusate, io dovrei passare. Se permettete. Grazie. Ok. Andiamo benissimo, ragazzi. Si è spenta anche la luce. Le porte che sbattono. C'era una volta un giovane che si innamorò di una donna in un luogo molto speciale. Abbiamo la proiezione di un edificio. Una spiaggia, credo. E un circo, suppongo. Il circo. Sembra la storia di Marta e me. Sì, quindi in qualche modo dobbiamo ricostruirla. Si sposarono e poco dopo nacque la loro figlia. Una bambina sana che divenne tutta la loro vita. Dori. Dobbiamo scegliere il nome della figlia. Che senso ha questa storia? Perché parla della nostra famiglia? Eh. Fallo a capire, caro Walter. Crescendo seguì felice le orme della madre. Eppure la loro strada non era priva di ostacoli. I soldi non bastavano mai e il tempo che i tre potevano passare insieme era sempre meno. E così la strada intrapresa li condusse a un'inevitabile fine. Crescendo seguì felice le orme della nostra famiglia. Crescendo seguì felice direi di no. Quella triste ci può stare ma direi questa qui perché sono indicativo separazione. Ok. Crescendo seguì felice le orme della nostra famiglia. Crescendo seguì felice le orme della nostra famiglia. Questo non è vero. Penso che devo scegliere e trovare Dori. D'accordo. Prendiamo questa scalinata apparentemente infinita. Ecco. Carino carino carino. Oh attenzione ragazzi stiamo andando sempre più veloci sempre più veloci. Siamo bloccati. Facci vostri. No la casa degli specchi no vi prego. Ma non è una vera e propria casa degli specchi perché non riflettono semplicemente. Sono vetri trasparenti che però non ci fanno capire bene dove andare. Una sorta di labirinto. In effetti non ho idea di dove io stia andando. Mi sono già perso. A cavoia. Mi sto perdendo male male ragazzi. Mi sto perdendo malissimo. Eccola. La maledetta. Ancora lei. Sto girando in tondo o sbaglio? Se la prendo ragazzi Sta diventando intanto tutto rosso Attivo segno In qualche modo abbiamo trovato l'uscita Ah ok Carini carini Ancora le vibrazioni alla Oppenheimer L'atmosfera c'è tutta ragazzi mi piace molto Spero che poi anche i prossimi capitoli siano Interessanti o più interessanti E vi rinnovo il mio invito a Farmi sapere qui sotto nei commenti se Vi farebbe piacere Continuare la serie Il gioco non dovrebbe durare tantissimo Ragion per cui Nel giro di qualche Di cinque episodi perché sono cinque capitoli Potrei portarvi tutta la serie Dori Ci sta parlando credo siano ricordi in realtà Noi in perterriti continuiamo a salire le scale Molto belli gli effetti di illuminazione Quando parla la figlioletta ci fermiamo Il gioco ci rallenta Mi sono piaciuti molto gli effetti di Illusionismo per così dire Però Come vi ho detto non è niente che non si sia Già visto perché Sono giochini Che Superliminal ad esempio fa Molto molto bene Per non parlare di viewfinder Che era Una perla ma qui Dove dobbiamo andare Attenzione c'è una porta in alto Ok Oh Il Adesso veramente grande Zoan Il grande Zoan vede che non hai trovato Ciò che stai cercando E mai lo farai Perché questo Non è il tuo futuro Ma se non è il futuro che stai cercando Forse il sentiero Il sentiero dinanzi a te Potrebbe condurti al tuo passato Lo seguirai anche se dovesse condurti a morte certa Ripeto Vai a cercare la verità Deve essere un sogno Non ci capisco nulla D'accordo L'ennesima porta E questa porta Ci conduce Alla fine di questo video ragazzi Fatemi sapere cosa venne è parso Se l'avete trovato intrigante Se così è stato Lasciate pure un mi piace Iscrivetevi al canale Qualora non l'aveste ancora fatto Attivando anche la campanella Per non perdervi le mie future pubblicazioni Seguitemi come sempre Se vi va Sui vari social Che trovate qui di lato E sotto in descrizione Sul mio gruppo telegram E su quello di videogiochi news Che come sempre Saprà consigliarvi Le migliori offerte Sul mondo gaming Detto questo Anche per oggi È tutto dal vostro The Prince Fatemi sapere se volete Un altro episodio Di questa serie Magari ve li porterò Anche tutti Io come di consueto Vi lascio un forte abbraccio E ricordate Giocate con passione Alla prossima E ciao a tutti